ciao amici anche a voi con questo freddo le unghie risultano fragili ah beh io me le mangio faccio prima ma no ci sono molti modi naturali per rinforzarle per avere unghie belle non c'è solo la manicure come noi anche le unghie soffrono il freddo e per proteggerle servono un'alimentazione adeguata e integratori specifici incredibile non proprio la columbia university di new york ha scoperto che la vitamina h o biotina combatte le unghie fragili oggi vedremo dove trovare questa fantastica vitamina negli alimenti di tutti i giorni vi piace l'idea se sì mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 uova un uovo intero cotto contiene ben 10 microgrammi di vitamina h l'uovo è anche un'ottima fonte di vitamina a e proteine 2 mandorle un quarto di tazza di mandorle tostate contiene un microgrammo e mezzo di vitamina h niente male vero 3 cavolfiore 100 grammi di cavolfiore contengono da 0 2 a 4 microgrammi di vitamina h ottimo per le unghie 4 funghi anche i funghi sono un'ottima fonte di vitamina h inoltre contengono potassio e tre vitamine del complesso b riboflavina niacina e acido pantoteico 5 patate dolci una mezza tazza di patate dolci cotte contiene 2,4 microgrammi di vitamina h non sono solo buone ma anche amiche delle unghie 6 pesce è meno noto ma oltre a essere ricco di omega 3 il pesce ha anche vitamina h 7 legumi i legumi sono consigliati per proteggere le unghie sono anche ricchi di proteine 8 semi semi di chia e di lino contengono anche la vitamina h nei loro valori nutrizionali 9 cereali integrali i cereali integrali sono ricchi di vitamina h e altre vitamine del gruppo b magnesio ferro rame avete visto amici come è semplice avere cura delle unghie non solo con lo smalto ma anche e soprattutto a tavola ricordiamolo quando prepariamo i nostri menu per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la bellezza è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche se volete sostenermi in questo progetto di divulgazione di salute naturale potete abbonarvi al canale avere cura delle unghie è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio